guarda la il cavallo la capretta che si scannano per il cibo il cavallo che sta arrabbiando facendo il filmino e si stanno scannando per il mangime il cavallo già spesso io ho preso invece queste qui davanti invece qui but Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.